Salvia, rosmarino, basilico ed altre piante aromatiche spesso sono attaccate dalle cicaline. Cosa sono le cicaline? La state osservando una qua in anteprima posizionata sulle mie dita, adesso avvicino anche un filo di 2 mm di diametro, sono quindi dei piccoli insetti lunghi da 3 a massimo 5 mm con questo colore bianco giallastro e i loro attacchi iniziano dal mese di aprile in poi nel mese di maggio giugno e luglio gli attacchi sono maggiori. Allo stadio adulto appena si disturbano se ne vanno immediatamente. Le loro punture provocano questa decolorazione sulla pagina superiore della foglia con questo tipo di aspetto punteggiato. Le foglie non sono utilizzabili in cucina, pian piano si seccono, cadono e ben presto la pianta deperisce. Come si eliminano con aglio e peperoncino? Vi sto mettendo qui in alto il link del video dove vi spiego come si fa, non utilizziamo pesticidi sulle nostre piante aromatiche. Sulle altre piante non aromatiche in caso di attacchi gravi potete anche utilizzare il piretro naturale, sempre un prodotto biologico, vi sto mettendo qui in alto il link del video per andarvi a vedere come si utilizza. Vi saluto, vi ringrazio, alla prossima ragazzi un abbraccio.